Lo scorso 4 settembre si è tenuta a Camorino la cerimonia di inaugurazione della Galleria di base del Monte Ceneri, la terza galleria ferroviaria più lunga della Svizzera, un'imponente opera di carattere internazionale di cui però beneficerà soprattutto la popolazione del canton ticino. L'evento ufficiale non ha destato nessuna sorpresa, le autorità hanno ripetuto le solite parole dritto e nessuno ha pensato di sostenere gli appelli affinché venga fatta giustizia per i lavoratori che hanno pagato a duro prezzo per la realizzazione della galleria. Il forum alternativo, da parte sua, ha partecipato ad una manifestazione che univa tutta la sinistra a sostegno delle rivendicazioni degli operai. È stata l'occasione per invitare ancora una volta la magistratura a portare a termine le inchieste aperte grazie alle denunce e le testimonianze di alcuni coraggiosi lavoratori. Questa grande opera ingegneristica è in infatti stata realizzata ad un caro prezzo. Due operai hanno trovato la morte nel suo cantiere e molti altri hanno subito sopprusi e condizioni di lavoro inaccettabili. FFS e autorità competenti, ovviamente, hanno relegato il più lontano possibile la manifestazione di protesta. Come forum alternativo è allora nostro dovere fungere da cassa di risonanza per le rivendicazioni di chi ha lavorato su questo cantiere. Basta con i ritardi della magistratura su questo dossier, che sia fatta giustizia per gli operai di Al Transit. Giustizia!